Sorpreso a dormire abusivamente in un padiglione dismesso del vecchio ospedale San Gerardo, arrestato per spaccio, resistenza pubblico ufficiale, recettazione, colpito da diversi ordini di allontanamento dal territorio italiano, mai ottemperati. Una lunga lista di precedenti collezionati nell'arco di quattro anni, questa volta nei suoi confronti è scattata l'espulsione coatta. Il questore della provincia di Monza e dell'Ebreanza, Marco Dorisio, ha infatti disposto l'accompagnamento presso il CPR, Centro di Permanenza e Rimpatrio di Roma, di un 23enne marocchino irregolare sul territorio nazionale. Era arrivato in Italia in auto dalla Spagna nel 2019, due anni dopo la prima denuncia per essersi introdotto abusivamente in una proprietà privata dove aveva allestito un giaciglio collegandosi anche alla corrente. Stesso reato un anno dopo, quando si era accampato in un padiglione del vecchio ospedale San Gerardo. Quindi l'arresto per spaccio e in seguito per rapina impropria per rubare una felpa aveva aggredito la guardia giurata. Ad agosto di quest'anno la denuncia per resistenza pubblico ufficiale e ricettazione di un'autovettura. In quell'occasione, a bordo di un veicolo rubato, aveva cercato di sfuggire alle forze dell'ordine finendo contro un muro. Lunedì i poliziotti lo hanno nuovamente trovato all'interno del vecchio ospedale San Gerardo di Monza, dove si era introdotto forzando una grata. Il 23enne è stato accompagnato dal personale della Questura presso il CPR di Roma, dove sarà trattenuto per il tempo strettamente necessario al definitivo allontanamento dal territorio nazionale.